Tra i diversi aspetti della questione ambientale, che è la questione che ormai è a scala di pianeta perché l'emergenza ambiente sarà quella in cui ci misureremo, c'è anche quella che sentiamo spesso parlare di perdita di biodiversità o di squilibri ambientali. Ebbene, su questo noi ci stiamo lavorando abbastanza su questi squilibri che si sono realizzati nei territori, una volta che è venuta meno l'azione dell'uomo, contadino, pastore, che le aveva realizzati questi equilibri, come? Con quel paesaggio agrario che poi ha fatto la storia e ha creato anche angoli suggestivi anche da un punto di vista estetico. Da 30-40 anni quest'azione dell'uomo è venuta meno, tant'è che abbiamo cambiato modi di produrre, nuovi modi di fare i campi, per cui oggi noi paghiamo tutto questo abbandono del territorio perché l'Italia ha scelto negli anni 50-60 la strada dello sviluppo industriale e abbiamo abbandonato quell'attività che impegnava quasi tutti. Però questo che doveva probabilmente succedere perché probabilmente non avrebbe sfamato tutti, non avremmo raggiunto quei benessere che caratterizzano i nostri tempi, ci è sfuggito un particolare, cioè ci è sfuggito quali conseguenze su un piano non solo umano, sociale, antropologico, ma anche da un punto di vista ambientale quali conseguenze avrebbe determinato. Le conseguenze sono che questo territorio oggi da una parte conosce problemi di iperantropizzazione, dall'altra invece conosce problemi di abbandono diffuso. Questo abbandono sta dando alla natura la possibilità di riprendersi questi spazi, ecco perché oggi parliamo di un aumento del bosco, il bosco che sta riprendendosi quelli che a volte erano seminativi, vigne, vigneti o uliveti. Quindi sta venendo fuori che il bosco aumenta e questo può essere pure percepito come un valore positivo perché aumenta la naturalità. Questo è vero fino a un certo punto perché è vero anche che questa uniformizzazione dello stesso paesaggio ci fa pagare poi prezzi in termini di perdita, anche di qualità estetica del paesaggio e ci fa perdere anche in termini di biodiversità, quella biodiversità di cui era stato creatore l'uomo, piante, frutti, piante orticole, tutto questo sta avvenendo meno. Quindi stiamo perdendo moltissimo di quella che chiamiamo biodiversità agraria.